eh 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 non è pericolo? nooo va a fare tanta volta vai vai eh non mi ricordo il punto di girare sei quanto al diritto è perciò vai andando dai tu andate perché non mi ricordo il punto di girare se il diritto è pericolo ma ricordo lui e se lo vedi da ero il punto di girare se lo vedi da ero il punto di girare Sì! Vai, vai! Sì! 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 Ma Luca è stato tranquillo, in tempo! 101! Stai iniziando a divertire, eh? Sì! Sì! Stai iniziando a divertire, eh? Stai iniziando a divertire, eh? Si vede che è un feeling diverso. Ma da quella volta che sei uscito da solo, eh? E non bisogna semplicemente uscire. Sì, è vero. Io, pure se ho un terreno molto diverso, il Vesuvio, mi ha dato confidenza con la moto. Sì, sì. Che è la cosa importante? Varo, cambia il terreno. Sì, vai in difficoltà o meno. Però se almeno il feeling con la moto ce l'hai. Sì, sì, è vero, è vero. Procco che non fia le piante. Noi, perché hanno rescattato il ripotto! Se Deus offrir il ripotto! Non penso che ci siano calledero sul raticno! È inizi che ci puoi r welcomed Sirio. Delia è, delia! Noi! Noi, naturalmente, canta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Adriano... Adriano... Devi andare a ore 1, ore 1, ore 2... Duco, andiamo. Eh, stai confondrato. Che cosa fa? Eh, quando è andato in meglio, pure ritengo molto meglio. Tutto a sinistra e alla strada è già qua. Cioè, scusami, tutto alla tua destra di là. la griglia sta vicino allo steccato? vai in orizzontale come se volessi scopo il cagli là tu l'altro vai vai luca è stagia però no a loco è peggio però eh piglio la velocità che riesci tenendo perché loco è peggio vai vai destra 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 punto a destra proprio come se in parallele vai in parallele vai ancora ancora più a destra ok stai fuori uruguay mo tiene una via dritta tre moto sopra con tre gomme in uve tutto ci sono tre moto sopra con tre gomme in uve significherà qualcosa se non ce la fanno torniamo a scopo no perché se ne facciamo distruggere la roba non riesce a fare più niente va bene scendiamo avverterlo che delusione che stai non riesce a fare un ally con le due cagliost no che è fontamontale che sto otro che è solo quelle altre domive cagliosti che ho avventato a stunningi timore suorgini che ti seri giocato di packed johnken sia suonale le suonale a sp subir suonale gli lone se chinui guarda che è proprio pianeggiante non c'è una grande potenza se non c'è una grande potenza se non c'è una grande potenza non mi avrei mai visto se non c'è un bel affalmamento lo conosciuto a mio canale è da gestione a gestione ombra occhio a che è unica cosa di sessare un po' di ciù non è bravo con i rambigati ma con la città non c'è un po' di sessare e se niente Allora non te ne vanno mai Gia fa schiura la metto in moto L'hai avuto? L'hai avuto? Ma hai l'holl in la rete? Si si Hai l'holl in la serie? Sti ragazzi All in the link Guarda qui questa pietraia Luca l'angelo senza l'holl in Che fa? Ma la saliva la pietraia Luca senza l'holl in Vai giù Oh? L'hai avuto perché va a pacca ma non so se c'è la corsa No no è proprio va a pacca È proprio giù la sensazione non è sbagliata Il nuovo problema è che è troppo curto è troppo lungo questo Troppo freddo è lungo L'interesse ruovone è troppo lungo Se potessimo accorciare questo cazzo di interesse risolvessimo il problema Ma Ciro vado più ma vai Scendiamo? Ma a fondo corsa perché il muo è troppo lungo Si perché per metterle in una misura accettabile Parte della corsa già la perdo Camminavo così Da 150 Da 150 Ciro Capito? 150 150 155 No no 12 e 30 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 Ciro 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 è un bicidiale? no, ma è giustata la costa è giustata la costa ma è giustata la costa ma io non lo so più è giusto davvero buono però ci vedete qui però adesso non mi stanno facendo prima una cosa a punto che mi facevo prima ma ci dovrebbe che quella anche non è giusto 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 è giusto